Biondi Ugo e Mauro, Ardesie di prima qualità La ditta si occupa dell'estrazione da cave proprie, della lavorazione e della vendita di Ardesia per uso edile per piani di biliardi Grazie all'elevata qualità dei materiali e delle materie prime, alla lunga esperienza accumulata negli anni e all'uso di tecnologie moderne Biondi Ugo e Mauro è molto apprezzata nel settore L'azienda esegue lavori di copertura civile, vende Ardesia Grezza e prodotti di cava e realizza piani da biliardo